Il Fogolar Furlan di Roma ricorderà Adriano Degano, personaggio di alto profilo e riferimento per i friulani nella capitale, a dieci anni dalla sua scomparsa. Presente all'iniziativa il Presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Loris Basso. È sicuramente un piacere essere presente domani sera al Fogolar Furlan della capitale, a ricordare dieci anni della scomparsa il nostro grande Presidente Adriano Degano. Partito giovanissimo da Povoletto come funzionario dell'Inps e andò nella capitale con la sua famiglia, ma ebbe sempre quel filo, io direi quel cordone che lo teneva collegato sempre alla sua patria, alle sue radici. Già con esperienza nel volontariato a Povoletto, in Mensa, perché a vent'anni fu uno dei primi fondatori da Quarte Davos, di Paulet, quindi tantissime manifestazioni culturali anche con la filologica. Ma quando andò a Roma, prima come segretario, divenne Presidente e addirittura per 40 anni condusse questo Fogolar che è diventato tramite questa figura il punto di riferimento dei friulani nella capitale. Non c'era scolaresca, non c'era gruppo di persone, non c'erano sposi che volevano andare addirittura a incontrare il Papa, perché lui aveva questi collegamenti veramente col Vaticano, in modo particolare con Giovanni Paolo II, dove lui li faceva incontrare tutti ed era un punto di riferimento per questi friulani.